Oroscopo del giorno, domenica 10 ottobre 2021 Ariete Amore, la domenica dovrebbe regalarvi qualche gioia in più, visto che Venere sarà in buona posizione. Per questa giornata tutto andrà bene per chi è impegnato sentimentalmente in un rapporto di coppia. Belle emozioni pure per i single. Lavoro Un giorno tranquillo per il lavoro, finalmente potrete rilassarvi dopo dei momenti pesanti. Toro Amore Dopo delle giornate parecchio problematiche e agitate, oggi potreste recuperare un po'. Finalmente, infatti, potrebbe arrivare maggiore serenità per le relazioni e per i rapporti più in generale. Lavoro Molto tranquilla la domenica di chi lavora, non avrete problemi troppo grandi da dover affrontare. Gemelli Amore Questa potrebbe essere una giornata non bellissima perché il mood sarà basso e potrebbero arrivare conseguenze in coppia. Una domenica di piccole discussioni con il partner e agitazioni per le nuove conoscenze. Lavoro La luna in opposizione potrebbe portare tensioni anche sul lavoro. Dovrete fare una certa attenzione. Cancro Amore Tranquilla questa giornata, non aspettatevi grandi cose in amore, anche perché sarete parecchio presi dal lavoro. Vedremo se le stelle vi riserveranno delle belle sorprese per la prossima settimana in arrivo. Lavoro Ti sarà tanto da fare e Mercurio non vi aiuterà affatto. Occhi aperti e concentrazione perché i problemi non mancheranno. Leone Amore Questa domenica sarà veramente molto bella da vivere insieme al vostro partner o una persona speciale. Potrete godervi questa giornata serenamente. Le emozioni non tarderanno ad arrivare nemmeno per i cuori più solitari. Lavoro Chi lavora anche oggi avrà soddisfazioni e novità. Le stelle vi baceranno in questo periodo. Vergine Amore Domenica da dimenticare per tantissime coppie. Questa sarà una giornata più che complicata e potreste essere particolarmente nervosi in un rapporto. Meglio andarci piano, la crisi con il partner potrebbe essere dietro l'angolo. Lavoro Stessa agitazione pure sul lavoro. Litigare con i vostri collaboratori non vi aiuterà per niente ad ottenere successi. Bilancia Amore Bene venere e bene pure i rapporti d'amore. Una domenica in cui ogni cosa dovrebbe proseguire senza disagi relazionali. Comunque dalla prossima settimana i sentimenti dovrebbero essere più forti per tutti voi. Grandi emozioni in arrivo. Lavoro Mercurio vi sosterrà. Se lavorate anche durante il weekend potreste ottenere un buon risultato. Scolpione Amore Venere non sarà in posizione incoraggiante per questa giornata. Nonostante ciò non saranno delle ore troppo dure da affrontare nel rapporto di coppia perché i disagi non saranno irrisolvibili. Stessa cosa varrà anche per i single. Lavoro Dopo alcuni giorni particolarmente buoni e fortunati questa sarà una domenica tranquilla. Potrete approfittarne per prendervi una pausa dagli impegni. Cagittario Amore Giornata super romantica questa di ottobre. Una domenica che vi ricorderete visto che potrebbe esserci una importante iniziativa di coppia e una novità per chi è single. Insomma emozioni forti e piacevoli per voi. Lavoro La luna potrebbe portare una grande fortuna sul fronte professionale. Nemmeno qui potrete lamentarvi. Anzi Capricorno Amore Attenzione a non portare troppe agitazioni a casa perché il rapporto di coppia potrebbe risentirne. Se i vostri problemi sono professionali lasciateli in ufficio, in negozio o dove lavorate. Con il partner o una nuova conoscenza meglio rilassarsi e godersi il momento. Lavoro Problemi sul lavoro come dicevamo potrebbe essere un giorno abbastanza difficile. Acquario Amore Molto interessante questa giornata del mese. Stelle veramente buone per i sentimenti e le storie d'amore. La domenica potrebbe essere romantica per le coppie. I single invece potrebbero essere parecchio fortunati e fare degli incontri. Lavoro Ottimismo sul lavoro, le energie difficilmente vi mancheranno. Tanto impegno e forza di volontà. Non si escludono nemmeno delle novità. Pesci Amore Con venere in posizione contraria, per questa giornata non aspettatevi emozioni immense. Per molte coppie tutto filerà liscio, ma ci sarà chi dovrà affrontare qualche battibecco. Situazione poco incoraggiante per i cuori solitari. Lavoro Oggi potreste essere abbastanza agitati, quindi attenzione a come deciderete di agire al lavoro e con i vostri colleghi. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Oggi